Questa è la mia storia e di chi, come me, si sente perso negli abissi della solitudine e della sofferenza. Non sapevo come venirne fuori. Per fortuna, qualcuno non mi ha mai abbandonato. Mi ha aiutato a riemergere, a liberarmi di un peso e a guardare avanti. Riemergere si può. Parliamone.